Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Oggi per cena ho fatto questi meravigliosi pomodori ripieni e ho pensato di registrare la mia ricetta e penso che magari possa essere utile di spunto per qualcuno di voi però sono curiosa di sapere voi come preparate i pomodori ripieni o comunque le altre verdure quindi se vi va scrivetemi un messaggio, lasciatemi un commento perché le verdure ripieni a me piacciono tantissimo e infatti nei What I Tina Day, nei vari vlog e video si vedono molto molto spesso, soprattutto d'estate quindi sono sempre alla ricerca di nuove idee e nuove ispirazioni in ogni caso questi pomodori li ho fatti con la quinoa pomodorini secchi e olive e sono davvero squisiti, semplicissimi da fare e sono molto buoni anche da mangiare ad esempio freddi o a temperatura ambiente quindi se cercate qualcosa di diverso dal solito e gustoso da portarvi fuori quando mangiate appunto fuori ufficio, università o altre cose secondo me una ricettina del genere è davvero perfetta io vi lascio al video e spero tanto che vi piaccia ciao! per prima cosa quindi ho messo la quinoa in un passino per lavarla sotto l'acqua corrente ne ho messi due misurini e sto utilizzando la quinoa di bulk powder che è biologica dopo averla sciacquata l'ho messa in una pentola e ho aggiunto 6 misurini di acqua quindi la proporzione è di una porzione di quinoa con 3 di acqua li mettiamo sul fuoco per 20 minuti circa intanto vado a preparare le erbe aromatiche e gli ingredienti di ripieno qui ho un bel mix tra basilico, erba cipollina, timo e origano e vado a tritare tutto con il coltello molto finemente hanno davvero dei profumi meravigliosi vado a tagliare a pezzettini anche i pomodorini secchi questi sono quelli in olio che ho scolato abbastanza bene passo anche alle olive purtroppo avevo queste denocciolate, le vado semplicemente a tagliare a fettine se avete le olive taggiasche o delle olive un po' più saporite è anche meglio perché essendo più saporite viene tutto più buono ed ecco qua il mix prepariamo intanto i pomodori per realizzare i pomodori ripieni avete bisogno di questa tipologia di pomodori quindi quelli a grappolo che sono abbastanza grandi e andiamo a togliere la parte superiore che ovviamente potete anche riutilizzare ad esempio nelle insalate togliendo ovviamente il picciolo verde a questo punto con un cucchiaino e aiutandovi anche con un coltello andiamo a svuotare i pomodori quindi togliamo la parte della polpa interna e dei semi io questo liquido, fra virgolette, non lo butto mai mi piace molto da aggiungere alle salsine fresche e farci ad esempio poi un po' di pasta ed ecco qua il risultato la quinoa è pronta, come vedete ha assorbito tutta l'acqua adesso la possiamo preparare quindi andiamo ad aggiungere tutti gli ingredienti che ci siamo tagliati prima un pochino di olio e vado a mettere queste erbe aromatiche sempre di bulk powder di cui vi avevo già parlato sono quelle al pomodoro buonissime e molto piccanti mescoliamo tutto quanto in questo modo e vi giuro aveva un profumo meraviglioso questa è anche buona da mangiare così a insalata non ci rimane quindi che farcire i nostri pomodori li ho messi in una teglia leggermente oliata e adesso li vado aiutandomi con un cucchiaino appunto a farcire con la quinoa questo impasto va bene anche per altri tipi di verdure come ad esempio i peperoni o le zucchine oppure come vi dicevo prima è ottima anche da mangiare così fredda all'insalata una volta farciti vado ad aggiungere poca acqua sul fondo della teglia copro con un foglio di alluminio e cuociamo a 180 gradi per circa 40 minuti ed ecco il risultato dopo circa 30 minuti vado a togliere l'alluminio e faccio stare 5-10 minuti nel forno normale in questo modo sopra si vanno un po' a rosolare e vi faccio vedere anche l'interno come vedete i pomodori rimangono ben compatti però in cottura diventano davvero morbidissimi e questo è anche un pregio diciamo se ve li volete portare fuori perché rimangono intatti ma sono molto morbidi, davvero squisiti